L'incidente è nel pomeriggio di martedì 2 aprile intorno alle 16 in corso dell'Arduino a Rivarolo Canavese. A essere coinvolta una Audi A3 condotta da una donna e una motocicletta BMW S1000R. Il centauro ferito è stato trasportato all'ospedale di Ivrea ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti la croce rossa di Castellamonte ai carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese. ... ... ... ... ... ... ...